Andranno alla fiducia cambiando il decreto, quello che doveva essere il decreto cartabile in modo sostanziale, quindi è una missione di dover fare un passo, poi adesso vedremo come. Io sono convinto che più che Conte, 5 Stelle, il problema parlamentare, sia una cosa che sto notando in questi giorni, lo Stato Maggiore dei giudici, dei magistrati militanti, più l'Associazione Nazionale dei Magistrati, più il CSM, insomma tutti i giudici che parlano in queste occasioni si sono pronunciati contro dicendo delle cose enormi, andranno in prescrizione 150.000 processi, 500.000, tutti i mafiosi, insomma, e seconda cosa che mi ha molto colpito, non uno, siccome ogni volta si dice, beh ma quelli militanti sono un'infia minoranza, il 95, il 98% dei magistrati poi invece hanno ben alti sentimenti, io tranne qualcuno in pensione come Spataro, non ho ascoltato la voce di un solo magistrato che motivasse a favore... C'è solo un ex magistrato che è Nordio che diciamo si è però conosciamo, sappiamo che... Sì, va bene, ma è Nordio che ha tutto il mio rispetto e ammirazione, però è uno che lo dice, poi ce ne sarà sicuramente qualcun altro, però tutti, capisci? E persino il CSM che vorrei dire è presieduto dal Presidente della Repubblica, siccome l'altra volta il fatto scrisse che il Presidente della Repubblica aveva qualche dubbio e ambienti del Presidente della Repubblica fecero sapere che no, non era vero, che aveva dei dubbi, cioè qualcosa di dubbioso lì dentro c'era... Quindi lei dice che la sortita del CSM di oggi può essere in qualche modo, come dire, si parla a nuova... Potrebbe nascondere un dubbio del Presidente della Repubblica, un dubbio di Matteo... Ma sentiamo... Il Presidente... No, no, è una riflessione da mettere sul tavolo, sentiamo subito il direttore...